Buongiorno a tutti, un saluto al Ministro Tria, al Sindaco di Firenze. Allora, sicuramente adesso dobbiamo assolutamente varare e licenziare al più presto il decreto per i truffati delle banche. L'abbiamo detto eccetera, quindi c'è solo qualche aspetto tecnico, ma sicuramente domani vedo anche il Ministro Tria. L'ho visto anche adesso, ma mi sembrava inopportuno adesso nelle pieghe di questo evento, ragionare di queste cose. Domani ci vedremo con il Ministro Tria e va varato assolutamente al più presto il decreto per i truffati delle banche. Non mi sembra che ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche. Signori, conserviamoci tutti lucidi.